Hola pepeños, que tal? E' la primissima volta che faccio un video da appena sveglio, tutto serio, senza aver scritto nulla così, d'impatto. Ma ho appena letto la notizia di Idlib, in cui un sacco di bambini e vittime innocenti sono morte, di una morte lenta e dolorosa. A causa di un bombardamento di bombe chimiche, gentilmente regalate a non so quale pezzo di merda inumano, grazie mille. E la cosa di morte che più di tutte mi dà fastidio è che in Europa se ne parli davvero poco, se ne parla come giusto sì, ok, sono morte insidia ma sti cazzi. Parliamone, non esistono morti di serie A o di serie B. Quando arriva la morte pepeños siamo tutti quanti uguali. Io è davvero da tantissimo tempo che cerco sui miei social di denunciare ciò che sta accadendo in Siria, perché è davvero qualcosa di inumano, di vergognoso, di schifoso. E sta a noi fare qualcosa. Sebbene pepeños crede che non possiamo fare nulla, in realtà non è così, noi possiamo fare la differenza. Noi possiamo e dobbiamo dar voce a tutta quella gente che l'ha persa, che non ce l'ha più, che ha perso la famiglia. Costringiamo i nostri governi a parlare del tema, a fare qualcosa, a reagire, perché quello che sta accadendo pepeños è un reato contro tutta l'umanità. Non possiamo davvero starcele più a guardare con le braccia concerti sui nostri comodi divani di casa nostra, mentre gente muore soffocata per le strade in Siria. Mettetevi sostanzialmente nei vani di questa povera gente. Ti stanno massacrando la casa, la famiglia, la tua stessa vita e nessuno ne parla. Sei passato in ascoltato, se ne sbattono altamente le palle di te. Perché fa comodo, perché business, perché fa soldi. Noi possiamo davvero fare la differenza e ve lo giuro perché io ci credo e perché io voglio fare la differenza. Se volete farla con me, condividi questo video, lascia un like e iscriviti al canale se non lo sei. Scusatemi per la mia faccia triste, un po' incazzata e per il video diverso dal solito. Vi prometto che nei prossimi video non sarà così. Anzi, questa sera uscirà un nuovissimo video, molto più sciallo, molto più divertente. Hasta luego. Scusatemi per la mia faccia.